E' stato presentato ufficialmente questa mattina il Capodanno Terramano 2014. Il big di fine anno è Marina Rei. Intervenuta telefonicamente durante la presentazione alla stampa, la cantante ha ricevuto il saluto Terramano attraverso i ragazzi del coro della Scuola Media Zippilli. Marina Rei è una grande artista, non la scopriamo sicuramente noi. Il fatto che l'omaggio a Marina Rei è stata questa canzone dei bimbi della Zippilli è stato davvero emozionante. Quindi veramente una bella presentazione, vi aspettiamo tutti il 31 in piazza e sarà anche quest'anno un bel Capodanno. Pomeriggio il Capodannino come ogni anno e poi il Capodanno per i più grandi, insomma come da tradizione terramana. Devo dire che Terramo anche quest'anno è riuscito a rispettare la tradizione, è riuscito a rispettare il Natale. Devo dire grazie all'aiuto di commercianti per il Natale, grazie all'aiuto di tutto il mondo produttivo terramano, grazie all'aiuto della Tercas Banca Popolare di Bari che è il main sponsor anche per il Capodanno. L'appuntamento è per il 31 alla solita ora perché poi il Capodanno si festeggia a mezzanotte mi sembra e quindi tutti quanti il 31 in piazza a festeggiare questo fine anno nella speranza che questo 2014 orribile finisca e che magari il 2015 speriamo sia migliore un po', non chiediamo la luna però chiediamo che almeno si comincia a vedere la luce fuori dal tunnel. stamattina è una bella conferenza stampa con i bimbi della Zippilli e quindi sarà anche quest'anno un bel Capodanno.